Allora, fermo restando il 28 dicembre alle ore 21.30 a Pescasseroli, proiezione Inferno Bianco Western girato sul Gran Sasso, proiezione in Abruzzo a Pescasseroli presso il Christmas Film Festival, d'accordo, questo l'abbiamo capito tutti, ma se venite prima alle 19 potrete, potremo assistere tutti alla premiazione di Franco Nero per l'impegno profuso presso la casa Villaggio Famiglia Don Bosco di Tivoli, quindi sarà premiato Franco Nero, così potrete, potremo, dopo Giuliano Gemma Ringo, anch'io potrò incontrare Django.